Lavoro in SEC Newgate, la più importante agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche in Italia, è una delle prime 30 al mondo. In particolare io mi occupo di crisi e reputazione ed è proprio nell'ambito della reputazione che stiamo sviluppando questo progetto di intelligenza artificiale. Brand famosissimi hanno un grande valore reputazionale ma non se ne sa valutare la quantità, la qualità e soprattutto in caso di danni quant'è il danno reputazionale. Riusciamo grazie all'intelligenza artificiale a valutare tutte le fonti che concorrono alla costruzione della reputazione di un'impresa, di un brand, a valutarle nella loro efficacia, nel loro danno reputazionale, dandogli un valore in termini anche algebrici e creando quindi un algoritmo che ci permetta di dare un numero, quindi un coefficiente molto chiaro alla reputazione. L'obiettivo è che questo numero diventi un asset aziendale, in poche parole esattamente come noi facciamo degli investimenti in tecnologia, in risorse, in nuove fabbriche, in qualt'altro. Possiamo fare un investimento nella nostra reputazione, possiamo misurarlo e il mercato ne può valutare il valore effettivo. Grazie a tutti.